Alla a tutti signori bentornati sul secondo appuntamento di forza le zone 2 sono stati dei piccoli intoppi Del tipo che voi non avete visto ma io ho scelto una nissan silvia un pochino tamarrata come prima auto e stavamo cercando di fare il nostro primo evento ora causa mal funzionamento del modo di registrare che sono ripeto il game dvr di xbox app 6 minuti e vi siete persi 6 minuti sono andati a farsi fottere ora io ci riproverò era una bellissima gara sulla spiaggia che non sono neanche Io riuscito ad arrivare neanche a un decimo da box official regali perché regali vabbè byron bay livello 1 eccola qua Eccola qua Atlasi la pibela Ma che bella che signori da box 2 sulla targa impostato da me Attenzione Bella però eh Facciamoci questo come evento dai intanto l'altro lo facciamo dopo intanto li facciamo tutte e due se regge la registrazione li facciamo tutte e due Perché sta cosa qua che Oddio sto male Questo è carino eh Potenziamenti Potenziamento personalizzato kit carrozzeria Capo un cazzo Capo un cazzo Capo un cazzo Assetto attuale questo set si può andare Ah non cambia assolutamente un cazzo Io vorrei fare potenziamento personalizzato Ho qualche soldo Non lo sapremo mai Potenziali personalizzati Ma adesso devi scegliere quali modifiche portare la tua auto Se vuoi migliorare l'aderenza per esempio provare i nuovi pneumatici Già potenzi per installare un turbo Ok Io puntarei subito al turbetto Filtro dell'aria Cominciamo con le cose piccole Non so qua 22.000 Oio di soldini Bene Bene Benissimo Quanto costa sta roba 1.800 Beh ci da 4 kilowatt Un po' l'entuccio A livello di Di qua Laga un attimino Però 4 kilowatt Lo mettiamo Sistema di carburante No Scarico Lo scarico Si Guarda un bello scarichino libero Anche se penso che qualcosina Abbia già Cosa più 8 kilowatt Costa 2.000 Ce lo mettiamo Paura non ne abbiamo Costo totale Albro a camme No No Tuerba Doppio turbo Cioè per non farsi mancare niente Doppio turbo 38 kilowatt Partenza da fermo Ci mette di più Volevo citare di più Accelazione di più 64 Qua Eh questo è carino Questo lo buttiamo dentro Paura non ne ho Ora però Come ogni cosa Se metti il turbo Dei mettere anche l'intercooler Se no Cammadosca Mettiamolo Paura non ne abbiamo Oggi insieme di raffreddamento Magari lo facciamo dopo Perché Pistone Compressione Albero a camme Iniettori Ci serviranno degli iniettori più cattivi Più 11 Più 18 Mettiamo Accensione Relativa Relativa Ci servirà anche una cilindrata Potenzialmente Pistone Mettere la potenza Grazie al raggiungimento Di rapporti di compressione Più elevati Io sapete che dico Io adesso cambio qui E vorrei andare Non più sul motore Ma so un pochino più Sull'aderenza Trazione Ecco la trazione ci serve Fizione Cambio Trazione Differenziale Cambio Cambio E questo ci serve Meno un chilo Eh già Non cambia tantissimo Rimane praticamente invariato Diminuisce un pochino il peso Ma allora lo facciamo più avanti Più avanti Io direi di fare anche Cambio Frizione Ci servirà una frizione un pochino più spinta Ah tempo di cambiare Vabbè Un millino Ci costa un millino Più avanti Non mi piace questa cosa che fa scatto Un millino e mezzo Lo mettiamo Dai Un millino e mezzo Lo mettiamo Ora Tornando indietro Gomme Vediamo un po' le gomme Allora le dinamiche Aspetto Conversione Gomme Mescola Tornamatici Larghezza Stile Cerchione Dimensione Cerchione Anteriore In generale Un aumento della superficie Di conto di gomme La tracetta In 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 tracetta Questi magici Sono soggetti A deformazioni In tracetta In curva Ho stato contatto Con la strada Bene Mettiamolo un po' Ah già I più grossi È ovvio Larghezza Pneumatici Non mi serve Mescola Pneumatici Posso avere Un periodo Più morbida Sportiva Da gara Mettiamo Va bene No Madonna Quanto costano Sti Cazzo Di cerchi Qua Ste gomme Tocca aumentare La potenza Torniamo indietro In possesso Torniamo indietro Qui 10.000 Di gomme Ma sono matti 10.000 Ci tiro su Delle cose Qua Che neanche Se le ricordano I freni Oh Vabbè L'assetto Barra Antirolio Riduzione Del peso Ma questo Potrebbe essere Anche Un 800 Meno 6 Kili Mettiamo Rinforza Il Traio No Non Mi interessa Barra Antirolio Posteriori Mi servono Per Ah già Il più bello Va bene I freni Non possono Relativi Anche perché Hanno un bel Impianto Freno Tra Silvia Di serie Motore Vediamo un attimo Se possiamo fare Qualcosina A livello di Accensione No Albero A camme Pistoni Vediamo un po' I pistoni Come se ne accavano 2200 Mettiamolo Dai Mettiamo Mettiamo questo Cilindrata Riusciamo a aumentare Un po' La cilindrata 1100 Boom Sono a posto Abbiamo fatto Quello che Dovemmo fare E' diventato Praticamente Un calzo Di aereo Installa Assetto Disinstallare Automodificata Disinstallare Questo assetto Installa Assetto Acquista Ok Sta andando bene Abbiamo fatto Un bello Upgrade Ora Dopo 6 minuti Video Passate A modificare Assetto E quant'altro Devo aver speso Praticamente Tutti i soldi Che avevamo Direi che sarebbe Ora Di tornarci Indietro E Tornare Indietro Ok Devo ancora Un attimo Usarlo Sto male Come si va In mappa Ah Mappa globale Noi siamo qui Dobbiamo andare Qui Bello 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 Cristo Che Cazzo Va molto Di più Ve lo assicuro Va molto Di più Di prima Dossi Alla grande Tanto Avevo solo Un assetto Minimo Donna Io vorrei vedere Poi sull'asfalto Sta bestia Qua svita sempre Ma è normale Perché non ha aderenza Sì Papapapa Puttate La prima Motostitela Popopapa Che bello Il mondo Mi torna In turbo Sto male Signore Io sto male A vedere Sta cosa Boom Un silvia Che sfreccia Un missile E' un po' Stacara Come se la cava Frena Prepari Evento Esibizione Con Ovviamente 5 km Di guardia A vederlo Sull'asfalto Un'ora del genere Anche perché Perché Abbiamo messo Forse il turbo Più grande Con 60 kW Dovemmo erogare Intorno ai 5-600 Cavalli Secondo me Non so se c'è Il banco Rulli Scrivetemi sotto I commenti Se lo sapete voi E spero anche Che mettiate Tanti mi piace Per questa fantastica serie Lag incredibile In me il programma Di registrazione Non è colpa Il mio computer Anche perché Sto giocando Tutto ad ultra Noi siamo Il fighetto Con la silvia Tutta tamarrosa Non c'è tempo Qua di svappare Hai bomber È stato un errore Giuro Ok Generic sotto Visto Vedo un Lancer Visto un BMW Visto anche una Z Un 350Z Nissan GT86 Un altro Silvia Un Silvia Quello non lo vedo Mi sembra di sì Devo gli stessi pari Via Sull'asfalto Ci divertiamo Vedete come aspira Il tubo Quanto ho cazzato Non metto di freni Buonissimo Oh Ok grande Grande Vai 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 Sfiammata incredibile Mi piace il Silvia Forse ho sbagliato E lavorarla così tanto Però devo dire Che torna sempre utile Perché il Silvia Regala grandissime emozioni Vai 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 Due dieci fissi Sesta marcia Palla Sto al massimo Ecco il VTEC Non so se è il VTEC Il Silvia Oddio Un dubbio croce Sfiammata incredibile Stiamo andando alla grande Alla grande Abbiamo già finito la gara Abbiamo dato tutto a tutti Quanto mi danno per ogni gara di soldi Lo scopriremo a breve Immagino Guarda Che roba Un aereo Ci volevo le marce un pochino più lunghe Verso la fine Perché sono così E' veramente troppo corte Primo Minuto e 42 Sono delle furie Ma che sia la prima di una lunga serie Continua Che pezzo Che abbiamo in macchina Questa è la più bella di tutte Già così Uno di noi Si è arrivato Ci ha dato 6400 Bene Benissimo Si guadagna bene Vuol dire che A breve Possiamo potenziarla Potremmo potenziarla già Ok 12 Ma è la 16 In sensazione Posso avere qualche nuovo giocatore Che bello Che bello Facciamo un'altra Facciamo un'altra Anche perché io cerco sempre Di meresimmarmi tantissimo In questi giochi E Roberto Sono la tua assistenza naturale Per la navigazione automatica Ma puoi Anna Ciao cara Ok Vuoi il percorso verso la tua prossima attività Si O no Si dammela Ti vi posto nel percorso Se sei ancora vicino di me Di Anna Anna Per il comando vocale Ora io adesso Sono curioso di sapere Dove cazzo mi ha mandato Sto bloccato di nuovo Boia Grazie a tutti 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 Grazie.